Visto che nell'ultima puntata del Lost Boy Show abbiamo parlato di Miyazaki, dello studio Ghibli, vabbè poi siamo andati un pochino off topic divertendoci, comunque vi lascio il link così vi rivedete il video. Volevo commentare la notizia del giorno, quantomeno per quello che riguarda il cinema, ovvero che in Giappone sta per uscire il nuovo film di Miyazaki, credo anche sia l'ultimo, che girerà perché comunque ha 83 anni, che è How Do You Live, l'unica cosa che si sa è che è tratto da l'omonimo romanzo del 37 o 38 se non sbaglio e basta, non si sa null'altro, non è stato diffuso un trailer, non ci sono state operazioni di marketing, non ci sono stati teaser, non ci sono state locandine, solo una locandina, un'unica locandina che è un'illustrazione e basta. L'unica cosa che si sa è questa e chiaramente poi tutto si regge sulla fama quasi leggendaria di Miyazaki stesso, che è in sé una, oltre a una garanzia di qualità, un'immensa campagna di marketing. Il fatto che esca un film di Miyazaki, tra l'altro l'ultimo, viene detto l'ultimo film di Miyazaki, poi non so se sarà così, spingerà sicuramente la gente ad andarlo a vedere, a prescindere, perché è un autore che si è meritato quel tipo di fama che vende in automatico, attira in automatico il pubblico un po', se vogliamo, quello che succede, tanto per capirci con Stephen King, che qualsiasi cosa pubblica, anche la lista della spesa, avrà comunque il suo pubblico, i suoi lettori e non ci sarà neanche bisogno di fare tanta pubblicità. Certo, in questo caso siamo all'estremo, perché oramai il cinema ci è abituato, arrivati addirittura a fare le recensioni dei trailer, e non solo di un trailer, perché iniziano a uscire teaser e trailer molti mesi prima dell'uscita di un film, poi più importante il film, più vengono prodotti questi trailer pubblicitari, e poi c'è l'abitudine, oramai consolidata, negli YouTube, negli Instagram, TikTok, quello che volete, di recensire il trailer stesso. Quindi non si passa solo a parlare del film, non si aspetta il film, ma si parla di quelli pochi minuti che vengono diffusi, a volte anche pochi secondi, 30-40 secondi, una cosa che è iniziata forse con l'affermarsi dell'MCU, quindi con i film degli Avengers. Ho visto diffondersi la mania di fare dei video, magari anche di mezz'ora, su un teaser di 30-40 secondi. Ecco, qui siamo completamente in controtendenza. Qualcuno dice che si vuole riportare la magia del cinema, che è anche sorpresa, è anche immaginazione nello stato più puro, cioè tu ti siedi sulla poltrona e non sai esattamente cosa ti aspetti, mentre ora tu vai al cinema a vedere un qualsiasi film, soprattutto un blockbuster, e sai praticamente quasi tutto. Proprio perché vengono diffuse le reaction ai teaser e ai trailer, ma anche perché ci sono quelli che lo vedono in anteprima, a volte il film viene criticato o osannato ancora prima di essere visto, quindi comunque tu vai in sala e sai nell'80-85% delle cose che vedrai sul grande schermo. È un po' a togliere il gusto? Un pochino sì. Diciamo che in parte aiuta a scegliere cosa andare a vedere o cosa no, perché alcuni film capisci che non fanno per te, mentre, caso contrario, altri film non puoi perderli. Capisci che non puoi perderli perché appunto ti hanno raccontato per mesi, con locandine, con voci diffuse appositamente di corridoio, quindi non sfuggite, ma diffuse appositamente, con appunto già ripetutamente citati i trailer, tu vieni proprio ingolosito a vedere un determinato film che poi magari non sarà poi questo capolavoro che ti aspettavi, perché le aspettative si alzano e spesso il risultato finale è un po' più basso. Non sempre, ma spesso vale questa regola. Questo ecco, di Miyazaki a Do You Live è proprio la cosa opposta, cioè chi andrà a vederlo, quantomeno in Giappone, non so se poi qui nell'Occidente si sceglierà un'altra strategia di comunicazione, ma chi andrà a vederlo in Giappone andrà a scatola chiusa, quindi andrà in fiducia pronto a stupirsi. È una cosa bella, sì, ovviamente se lo possono permettere in pochissimi, pochissimi, forse solo Miyazaki per quanto riguarda l'animazione, e poi ripeto nella scrittura possiamo citare King, poco altro, poco altro, credo che un'operazione del genere potrebbe funzionare se uscisse per esempio, non so, un nuovo film dei Signori degli Anelli, non una serie, un film, potrebbero anche fare solo una locandina, un poster e la intenderebbe verlo comunque, pochissimi franchise, pochissimi autori, registi, sceneggiatori hanno questo potere. C'è anche da dire però, c'è anche da dire che il non parlarne è anche in sé un'altra scelta di marketing, e possono farla solo le persone che hanno nel loro nome e nella loro fama il potere del marketing stesso, come dicevo all'inizio video, quindi Miyazaki ha questo potere, e la scelta di tenere tutto nascosto è in sé una scelta di promozione di un film, perché la gente sarà davvero incuriosita, bramosa di sapere di cosa parla questa pellicola. Quindi ok la magia, ok tutto quanto, ma c'è anche una scelta, c'è anche una precisa strategia comunicativa. Ditemi cosa ne pensate, se vi interessa il film, se vi piace questa mania di commentare i teaser, i trailer, di vedere tonnellate di materiale prima di andare a vedere il film stesso, o se preferite un pochino pescare a scatola chiusa come facevamo un tempo noi, noi boomer, noi che fin degli anni 80 li scoprivamo sostanzialmente vedendoli e poco altro. Fatemi sapere, sono un po' più curioso, poi tutte altre cose, iscrivetevi al canale, like, like, molti like se vi fa piacere, perché grazie ad essi il mio video, il mio canale, perdon, sta crescendo parecchio, poi se volete seguirci su Instagram, me, la mia compare del Lost Boy Show, trovate qua i nostri account Instagram, e niente, ci rivediamo alla prossima puntata, e comunque sul film di Miyazaki, appena ci sarà la possibilità di vederlo, credo che faremo una puntata proprio speciale, o un post o qualcosa del Lost Boy Show, perché, perché, come avete capito, è una materia, un argomento che ci interessa davvero. Alla prossima!